Cinque dipendenti della Rincicotti Orciani, quattro operai più l'amministratrice, rischiano il posto se la società sarà messa in liquidazione. Il delicato caso è stato affrontato ieri in Commissione Garanzie e Controllo, presieduta per la prima volta dalla grillina Roberta Ansuini, eletta presidente dopo le dimissioni volontarie di Mirko Carloni. Durante l'incontro sono state ascoltate tutte le componenti, la presidente di Aset Spallucci a Capodagli, l'amministratore unico della ditta Sonia Mariotti, gli esponenti della CISL Giovanni Giovanelli e Maria Grazia Santini e il dirigente comunale Pietro Celani, che è intervenuto a nome del sindaco Seri. La CISL di Fano e la Femca sono fortemente preoccupate per il destino della Rincicotti e chiedono chiarezza e trasparenza riguardo a questa vicenda con aspetti molto gravi, secondo loro, sia per la cifra pagata da Aset per il suo acquisto, si parla di 1.200.000 euro, sia perché in questi anni la ditta non ha nemmeno lavorato né per la pulizia delle fosse biologiche e degli edifici di proprietà comunale, né per la pulizia delle caditoie. Anche i consiglieri comunali di Progetto Fano, Alberto Santorelli e Aramis Garbatini, chiedono una risposta veloce e danno la loro ricetta per poter risollevare l'azienda. Il merito soprattutto della CISL che ha evidenziato questa problematica e poi anche il mio collega di Consiglio Comunale, nonché del gruppo di Progetto Fano, ho subito movimentato e chiesto di convocare la Presidente della Commissione di Controllo e Garanzie per capire come erano andati i fatti, come sono i fatti e quali sono le possibili soluzioni. Quali sono queste soluzioni possibili? Secondo noi le soluzioni sono di due tipi, una temporanea perché comunque la società deve sopravvivere e devono sopravvivere soprattutto anche i dipendenti perché devono continuare a lavorare e poter sostenere le loro famiglie. E una più a lungo termine con la fusione dell'ASET che poi possono inclobare anche la società di Cicotti. Quindi in concreto che cosa può fare l'ASET? L'ASET quest'anno può continuare a dare il lavoro alla Rincicotti Orciani senza affidarlo ad altre ditte private, in quanto la Rincicotti Orciani è 100% pubblica. Poi in attesa che comunque l'Ammestazione Comunale in un progetto di unificazione e di fusione delle due società inglobbi anche la società.